HG Predatore sistemato Approvvigionamento pronto Tu avvii a disposizione Minaccia risolta UAV in arrivo Agente speciale a terra Amico a terra UAV di disturbo in arrivo Elstorm alleato in arrivo UAV in arrivo Il round è quasi Continuate così Hater schierato Perdiamo A Prendiamo G Il nemico ha preso A Prendiamo A Sì Sotto controllo UAV di disturbo alleato in arrivo Prendiamo Bravo Bersaglio a terra Minaccia rimossa Minaccia rimossa Prendiamo C UAV alleato in arrivo C sotto controllo UAV alleato in arrivo Approvvigionamento pronto UAV a disposizione B in manovestà Pronto al blitz Il nemico ha distrutto il vostro UAV UAV ostile individuale Potenziato Il nostro robot è stato riattivato Firebreak eliminato Sono rovinati Sono rovinati Firebreak eliminato Centrato 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 Grazie a tutti. 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 Hanno disattivato il nostro robot. Uccisione. Il nostro robot è stato riattivato. Eliminato. Il nostro robot è stato riattivato. Il nostro robot è stato riattivato. Nella norma. Uccisione è stato riattivato. Uccisione è stato riattivato. Il nostro robot è stato riattivato. Il nostro robot è stato riattivato.